Sul Mediterraneo va espandendosi un campo di alta pressione il quale garantirà condizioni di stabilità sulla nostra regione per l'intero fine settimana. Le correnti settentrionali andranno attenuandosi anche se l'alta pressione presenterà una lacuna sul suo bordo orientale a causa di una depressione che dal nord Europa si porterà sui Balcani. Per domani sabato 23 maggio avremo cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature in aumento segnatamente nei valori massimi, venti deboli occidentali e mare poco mosso. Domenica 24 persisteranno condizioni di stabilità ovunque con qualche passaggio nuvoloso innocuo. Le temperature non subiranno particolari variazioni mantenendosi su valori praticamente estivi, venti deboli di direzione variabile e mare quasi calmo o poco mosso. Da lunedì 25 l'alta pressione subirà un cedimento sul suo bordo orientale a causa dell'inserimento di correnti fresche dai Balcani. Questo potrebbe determinare instabilità pomeridiana soprattutto lungo la dorsale appenninica nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì. Dunque saranno possibili durante il pomeriggio in queste giornate rovesci temporaleschi sparsi concentrati nelle aree interne in parziale sconfinamento anche lungo la costa. Le temperature subiranno una contenuta diminuzione. Per maggiori dettagli di visitare il sito www.meteosette.it